Qui cerchiamo di personalizzare molto la casa, qui in special modo ci sarà anche il complemento quindi dal tappeto al quadro all'oggetto tipico del negozio di centro che fa molto piacere anche magari acquistarlo nella passeggiata insomma. In questa occasione poi anche sì in quest'anno festeggeremo il nostro sessantesimo di attività. Con Tozzo Atelier Legnano vogliamo dare un nuovo concept quindi professionisti all'avanguardia, un mix e un pool di persone che riescono ad fare un progetto molto più trasversale quindi dare una risposta più ampia all'arredamento e non solo l'arredamento che tocca tutta la sfera quindi andiamo dalla consulenza immobiliare, passiamo alla casa intelligente, andiamo al colore, alle vestizioni, alle decorazioni, andiamo alla luce, tutto quello che è luce che si illumina. L'illuminazione è un altro settore che qui proponiamo in maniera anche professionale quindi al di là della lampada artistica c'è proprio l'illuminazione tecnica quindi dai led a tutto quello che è la luce innovativa di oggi nella e quindi vabbè qui si vedono anche delle proposte appunto da progetto luce. Collaboreremo con dei partner che ci aiuteranno dalla ristrutturazione alla fase finale. Le aziende con cui lavoriamo sono sempre state da anni le leader nel settore del design quindi le porteremo avanti chiaramente sempre con la massima ricerca di gusto e di stile insomma. Cercavamo questo concetto un po' di di tradizione cittadina, quest'idea di fermarci e quindi sotto i portici anche per una chiacchierata, una visita, un caffè con i nostri clienti ci fa sempre piacere e quindi questa è sicuramente una cosa in più che ci fa piacere essere in questa posizione di Piazza Don Sturzo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!